I film di sabato di Cummings on television. Alle 10, Michael Caine è un uomo che si specializza in omicidi per scalare i ranghi della sua azienda in Come fare carriera? Molto disonestamente. Quello è il mio ufficio! È del vice capo di visione! Alle 12, il veterano Leo Penn dirige suo figlio Sean e Martin Sheen in Berlino opzione. Zero, storia di un dirottamento nella Germania dell'Est negli ultimi anni del muro. Noi odiavamo quel muro e sempre noi sognavamo di passare al di là. Alle 18, Stefano Accorsi è il rapinatore cortese degli anni 60, Horst Fantazzini, protagonista di una famosa evasione in Ormai è fatta. Noi scendiamo, prendiamo la macchina e ce ne andiamo via. Alle 23, un misterioso killer semina il panico tra i guardiani notturni di un supermercato in Intruder, terrore senza volto.